Non partiranno il giorno prima dell'epifania i saldi 2020 come sarebbe invece dovuto essere. Quest'anno infatti l'emergenza Covid li ha fatti slittare a sabato 30 gennaio. Come sempre riguarderanno per lo più scarpe, accessori e capi d'abbigliamento. 30 giorni dureranno le vendite scontate, dunque fino a tutto febbraio. Lo ha deciso la Giunta regionale che ha approvato la delibera considerando lo stato di emergenza legato alla pandemia da coronavirus valido al momento fino alla fine di gennaio. Prima dei saldi ci sarà però quest'anno una maggior flessibilità sulle promozioni che potranno iniziare, se le aziende lo vorranno, a partire dal primo gennaio. Finora c'era sempre stato un divieto su ribassi nei 30 giorni precedenti alle liquidazioni e si trattava di un modo per evitare situazioni di concorrenza tra imprese all'avvio di stagione. Ma con i saldi posticipati a fine gennaio l'esigenza risultava a questo punto meno stringente. Le stesse associazioni di categoria regionali lo scorso 12 novembre avevano chiesto di intervenire con nuove soluzioni. Anche le altre regioni italiane hanno deciso di posticipare i saldi invernali.